Ma è una passeggiata, come fai a riuscire alla raffasciata? Oddio senta che ha delle risate che faccio Eh? Senza griglia, vedi? Ma visto che bello il tetto? Cerchiamo di vedere il nostro albergo Sì, ma se guarda quel piccolo lavoro Quel Roof Garden lì Eh? Sì, molto bello Mamma, guarda Ma in America va molto il gruppo Sì, in America, mi piace Qua sono molti palazzi che sono dei giardini organizzati Ah, per dire? Sì Vediamo Eh? C'è qualche palazzo di... Quale è? Quale? Fammelo capire bene Guarda, ce n'è uno trossotto marrone scuro e basso Sì Sì Lo vedi? Quello è quello che noi vedevamo dal nostro dietro davanti E io ho guardato questa sera Quindi il nostro albergo sta dietro Non si vede da qua Forse si intravede qualche... Sono un picchio Sono un picchio Agli altri sono più alti Sta dietro a quella... Perché noi ce l'abbiamo... Perché noi ce l'abbiamo tutto a sinistra Cioè noi abbiamo... Alla nostra sinistra abbiamo il World Trade Center One World Che è la territoria più alta Quindi... Secondo me... Sta... In questa... Sta prima... Quello lì è... È quello che si vede... Ho capito qual è È capito? È quello che si vede sotto... È quello che si vede, diciamo, in direzione della Trump Tower No... Scusa che è... Sì... Nella Trump Tower Ho detto una scopidaggine Della... One World Quello che arriva circa a metà No... Invece è quell'altro Quello più alta altuna Il secondo della... Della lista? Ma scusami... È impossibile... 40 piani... Quelli sono molti di più di 40 piani E poi come forma è più simile questo... Quello che dico io Perché ha tutti i finestroni... Vedi com'è? Che sono i finestroni delle camere? È quello... Perché... Perché... Ha faccia sul... Sul canale... Sul... Sul... Sul Hudson... E noi per vedere il... La... World Trade Center Dalla camera nostra Ci dobbiamo quasi sporgere Infatti vedi è a filo eh Che l'abbiamo tutto a sinistra noi Ok È quello... È quello lì Non sei convinto? Non sei convinto Che ti devo dire? Che è giusto quello che dico io Ok Ok